Andrea Greco, la sua mozione in Regione ha abortito? Diciamo che per il momento quello che ha abortito è la coerenza della consigliera Calenda. Io credo che questa maggioranza sia arrivata al capolinia. Toma non può naturalmente pensare di poter governare con un solo voto, quindi l'unica alternativa è restituire la parola ai cittadini molisani. Noi abbiamo chiesto anche a Vincenzo Niro, a Salvatore Micone, a altri protagonisti del centrodestra di votare la nostra mozione di sfiducia per provare a restituire un minimo di dignità politica a questa legislatura che davvero l'ha persa completamente. Alle tante emergenze che sono sul tappeto come si risponde? Sicuramente non con chi queste emergenze le ha causate, questo è il vero punto. Questa classe politica è responsabile di molte delle criticità che stiamo vivendo, quindi non si può pensare che chi le ha causate poi possa risolverle. Larino? Larino ormai è più di un anno che diciamo che Larino era il posto perfetto per essere il nostro centro Covid di riferimento regionale. Purtroppo Toma da una parte veniva in aula a dire che sì, che era d'accordo con noi, votava i nostri atti di indirizzo, poi però scriveva ai ministeri romani e al commissario dicendo che Larino non poteva essere centro Covid perché non era dea di primo livello piuttosto che non aveva alcune caratteristiche tecniche che i suoi tecnici andavano ad eccepire. Quindi oggi purtroppo siamo non in ritardo ma in fuori tempo massimo per cui io mi auguro che il prima possibile usciremo da questa pandemia e quel territorio dobbiamo restituire la dignità che merita a quell'ospedale, a quel territorio in ogni modo e in ogni forma possibile. Il caracciolo di Agnone non gode di migliore salute? Assolutamente no, questo perché è sempre una politica cieca, miope, non riesce a fare quello che serve per il caracciolo. Oggi a livello di programmazione il caracciolo è un presidio di area disagiata, quindi potrebbe avere dei servizi essenziali per quell'area. Penso a dei sargeri che funzioni, mentre le sale operatorie ormai sono chiuse da anni, nonostante abbiamo i chirurghi a disposizione dentro il caracciolo. Penso a una medicina che sia effettivamente operante e non allo stremo delle forze con due soli medici costretti veramente a dei turni da eroi per poter mantenere aperto quel punto. Penso alla dotazione tecnologica. Ad Agnone ormai reclamiamo un'attacca da tre anni. Insomma, piccole cose, piccole cose che però potrebbero fare la differenza e offrire finalmente una sanità che sia di qualità per chi eroicamente decide di vivere in Alto Molise, in una delle zone più interne del Paese.